Buonasera amici di Logrent, sono Alessandro e stasera ho piaciuto presentarvi da New Entry al nostro parco mezzi a noleggio, già disponibile sin da subito. Si tratta del mini escavatore HX85A che per caratteristiche tecniche, funzionalità e modus operativo è da far rientrare assolutamente alla fascia dei prodotti della famiglia Hyundai per quello che concerne il movimento terra. Le caratteristiche principali di questa macchina sono sicuramente la cabina di pilotaggio con una visuale a 360 gradi, una seduta ergonomica e soprattutto tutti i comandi a portata di mano, questo in modo da permettere maggiore comfort durante l'utilizzo anche per cantieri impegnativi. La particolarità però sta nel motore perché monta un propulsore Yanmar Common Rail che oltre a essere conforme a tutte le normative della comunità europea per quello che concerne l'emissione dei gas, quindi è uno stage 5 e inoltre ha una gestione elettronica intelligente dello stesso e questo permette in combinata con l'innovativo sistema idraulico che ha una sensibilità molto elevata per i carichi di lavoro di rendere la manovrabilità e la lavorazione con questo escavatore molto fluida e questo ha consentito di aumentare il suo raggio d'azione, infatti le particolarità di questo escavatore sono che ha uno sbraccio molto importante ed ha anche una capacità di scavo verticale che supera i 7 metri. Questo grazie anche alla grande capacità di sovraccarico del mezzo che permette anche grazie al design del braccio di lavorare estremamente vicino ai ciliteri. Insomma è una macchina perfetta grazie alle misure compatte e alla potenza del motore, facile da usare, facile da usare, che è perfetta per quei cantieri urbani dove è richiesto sì di mostrare i muscoli ma soprattutto di essere veloci, flessibili e lavorare in sicurezza. Naturalmente che dirvi vi aspettiamo qui da noi, da LogRent qui a Carinaro e la macchina è disponibile sin da subito e noi siamo qui per soddisfare tutte le vostre curiosità o esigenze. Vi aspetto, grazie!